Da sinistra a destra dove Augello è sempre un giocatore che poi dopo si va a inserire e da questa parte Beresischi ha affintato di grossare con il testo poi dopo è rientrato e ha messo questa palla sul secondo palo dove Darmian era forse troppo stretto verso i difensori centrali e ha consentito Augello, vedi Darmian è troppo stretto per centrarmi